Nuovo video per il 2024 perché in questo anno ho deciso di fare un esperimento sociale che coinvolgerà tutti voi. Che cosa implica questo esperimento? Io andrò a scegliere un piccolo oggettino. Questo oggettino dovrà essere barattato. Barattato con un oggetto di ugual valore o superiore. Quindi durerà praticamente un anno questo video perché è da adesso 2 febbraio. Ogni settimana aggiornerò con quello che è successo. Allora come funziona questo esperimento sociale o giochino? Praticamente ognuno di voi se vorrà dare qualcosa in cambio di ugual valore o superiore mi contatterà. Ci troveremo in un luogo, faremo lo scambio e farò ovviamente il video mentre faremo lo scambio. Se non volete oscurirò anche i volti. Non ci sono problemi però ogni settimana farò l'aggiornamento con cosa è stato cambiato l'oggetto. L'obiettivo è di iniziare con qualcosa di piccolo e vedere dove arriviamo. Siete curiosi di vedere dove si arriva con questo baratto? Se andate su Instagram troverete il mio post con l'oggetto di partenza in questione. Quindi sceglierò due o tre oggetti con cui partire e farò un sondaggio. In base all'oggetto che ha ricevuto più consensi partiremo con quell'oggetto. Quindi mi raccomando andate su Gopip o YouTube. Vi lascio anche qui sotto il link del mio Instagram. Quindi mi raccomando ha comunque lo scopo di questo gioco. Esperimento non è quello di ricevere sia io che voi un oggetto più bello o per arrivare ad avere un qualcosa di più. È semplicemente un esperimento. Quindi anche se o io o voi ci andrete diciamo a perdere non sarà un perdere perché è solo per curiosità per capire fin dove ci si può spingere con il baratto. In America siamo arrivati a dei livelli straordinari però adesso ovviamente nel piccolo facciamo un giochino piccolo. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace quindi come idea e contattatemi qua nella mail scrivendo dove incontrarci o se mi conoscete fate mandatemi un telegram e quindi ci potremo vedere, incontrare di persona, scambiarci l'oggetto e saluto e baci. No vabbè comunque farò l'aggiornamento ogni sabato alle 3 ci sarà l'aggiornamento con il video su quale oggetto è stato scambiato. Quindi questo esperimento durerà come ho detto un anno quindi fino al prossimo febbraio 2025 ogni sabato ci sarà questo aggiornamento. Quindi mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, accendete la campanella così potete vedere quando arriverà la notifica del video aggiornamento e fatemi sapere, rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. ciao Grazie a tutti